Musica Abbiamo organizzato questa serata per dimostrare che il panettone non può essere non solo un dolce natalizio ma anche un'appetanza ad accompagnare altri ingredienti salati come ad esempio capocollo, pecorino erboinato di nostra produzione e anche salmone per esempio e per l'occasione abbiamo voluto mettere in mostra i prodotti della laboratorio pasticceria Opera Waiting un'azienda di Fujibonzi che ci ha prestato panettoni con ingredienti particolari come ad esempio il vermouth, pepe rosa o anche vin santo senese tutto questo sarà accompagnato dai vini e dagli spumanti dell'azienda Franca Contea che ci ha a sua volta messo a disposizione bottiglie di pregiudatissimo spumante e vino bianco da oggi inizia anche la prenotazione dei panettoni per le feste che potranno essere inserite anche all'interno di scesti natalizi con all'interno di altri prodotti tipo marmellate, peorini che potranno essere usati benissimo e regali natalizi spero molto realizzati dai vostri cari